Prima o poi ci voglio ritornare su Dragon's Dogma 1, anche se guarda, cerco sempre di schermarmi da sta cosa, ma ogni volta che vedo sti cazzo di gameplay, io non sono tipo che guarda la grafica, me ne frega un cazzo, cioè sono quel tipo di persona che veramente, ma avete visto abbiamo giocato a roba veramente vecchia e faccio porca troia che figata, però quando vedo le texture in 4k, il re-engine, tutte queste cose dice, è uguale a Dragon's Dogma 1, ma che cazzo, io guarda da una parte vi invidio, vorrei avere i vostri occhi, per ricordarmi le cose così, cioè perché vuol dire che tu hai letteralmente un filtro davanti agli occhi, tu hai un filtro che ti fa vedere, per carità, dipende come sei messo di testa, ma tutto più bello, hanno il filtro di ricordarsi Spyro della PlayStation 1 con la grafica del remake, perché se non si spiega, è la stessa gente che dice grafica PlayStation 1, sì, non avendo mai giocato alla PlayStation 1, che la gente tra l'altro continua a non capire, tra virgoletto, la fortuna di questa cosa, cioè questo è un po' un discorso da boomer, Kyle, però secondo me la stragrande maggioranza dei giocatori nuovi non ha l'ottica del passato, io non sono vecchio, no? Io sono del 99, però io da me piccolino ho vissuto la PlayStation 1, la PlayStation 2, quando è uscita la PlayStation 3, quando è uscita la PlayStation 4, cioè io ho visto come cazzo siamo andati avanti, ed è per quello che molte volte mi fa girare il cazzo quando sento determinati discorsi, perché la gente pensa di aver visto i grandi cambiamenti, quando non li ha visti, cioè quando noi siamo passati dalla PlayStation 1 alla PlayStation 2, la cazzo veramente stiamo a passare generazione, quando siamo passati poi dalla 2 alla 3, altre cose, perché cominciavano a entrare le robe della fisica, tutti quei cazza pippoli, quando siamo passati già alla 4, già cominciavamo un po' più a tirare il freno, ma questo perché? Perché ovviamente tu, mano a mano che vai avanti e affini una tecnica, è ovvio che i salti in avanti saranno molto meno grandi, no? Poi per carità c'è anche tutto quel discorso da parlare che dal 99, letteralmente, al 2010, la tecnologia ha fatto passi da gigante, cioè noi siamo passati da averci il floppy disk de merda, Ah, cominciavi i primi giga e compagnia, cioè no, i computer, tutto l'ambiente tecnologico è andato molto più avanti. Mo' che siamo arrivati ad avere, che ne so, la grafica fotorealistica, cosa puoi andare oltre al livello di mera grafica? Però appunto mi dà fastidio quando sento delle persone che fanno sti paragoni dicendo roba PlayStation 2, quando non capiscono di che cazzo stanno a parlare. E questa è la cosa che mi triggera, perché tu non sai che cazzo significa PlayStation 2, cioè tu ti aspetti delle cose che non potranno mai essere, perché? Perché sei arrivato a un punto dove stai quasi al limite, è difficile andare avanti. Cioè sto discorso è una roba talmente tanto ampia, perché, sempre per tornare al fastidio, la gente guarda la grafica, ma non pensa allo stracazzo di tutta la roba che ci stava dietro. Cioè quando noi siamo passati dalla PlayStation 1 a PlayStation 2, con dei dischi differenti, e tu avevi all'interno dei dischi della PlayStation 2 più memoria, quindi potevi fare più livelli, cominciava a strutturarsi tutta quella questione del Hey, in Kingdom Hearts 1, in Kingdom Hearts 2, tu nelle varie zone, perché erano così piccole e molto verticali? Perché ti dovevi gestire bene la memoria del posizionamento dei nemici? E poi noi siamo passati da quello a cose come PlayStation 3 e PlayStation 4, dove appunto tu ti trovi giganteschi mondi open world, in tempo reale. Cioè la gente non pensa che non è che una cosa spawna così. Cioè questo qua è il DualShock 5. Quanti dei nuovi gamer hanno utilizzato paradossalmente il DualShock 1? Dove questi non c'erano. Dove questo era letteralmente una mattonella de merda. Cioè, ripeto, discorso da boomer. Io sono contento che tutte le nuove persone in qualsiasi ambiente abbiano le cose, diciamo, a loro apice, no? Cioè abbiano veramente le prestazioni, la grandezza, i caricamenti, tutte quelle cose. Però certe volte uno si dovrebbe mettere anche un attimo, fermarsi e capire dove cazzo siamo partiti. Cioè pensare che un tempo era una schermata nera con quattro bit che facevano così con Pong, e oggigiorno siamo arrivati ad avere scene che te fanno a mettere a piagne come quelle di Baldur's Gate. Cioè tu capisci che tra qua e qua c'è stato qualcosa? C'è stato un botto de roba? Quindi quando sento persone che si mettono banalmente a vedere la grafica, mi piagna il cuore. Perché vuol dire che tu togli da una cosa bella, come il videogame, che è fottuta arte, tutta l'umanità per la grafica. Io mostro parla sempre della grafica, per dir l'argomento che ci danno di più, no? Quando non ragionano a, ah cazzo, gli NPC che hanno tutte le loro viuzze, tutti i loro percorsi quando stai nell'open world. Cioè pensare banalmente, che ne so, a qualcosa come Yakuza, dove tu mentre giri per i quartieri c'è stata tutta la gente che si fa i cazzi loro, che interagiscono, che fanno le cose, e tutti gli abiti, tutte le luci, riflessi. Ho capito che tu oggigiorno sei nato con quelle robe che ci stanno, ma non devono essere cose date per scontate. Cioè quella è roba che richiede lavoro, che richiede impegno, che richiede roba dietro. Cazzo. In mezzo ci sono 60 anni di sviluppo continuo, esatto. In mezzo ci sono 60 anni di sviluppo continuo, esatto. Grazie a tutti.